I problemi delle aziende che operano nel settore degli spettacoli dal vivo, come ad esempio i service, arrivano in regione. Con l'audizione in commissione di Carlo Volpe, presidente dell'Arts, l'associazione regionale Service Abruzzo, nata nel corso della pandemia e che raccoglie una cinquantina di aziende. Carlo Volpe ha rappresentato alla regione le difficoltà di aziende al collasso, con tanti tecnici specializzati che rischiano di dover cambiare lavoro. In Abruzzo più di mille famiglie vivono grazie al settore dei service per lo spettacolo, molte sono all'Aquila. La pandemia ha posto in essere una crisi gravissima a causa del blocco del settore, che ora sta lentamente ripartendo, ma senza certezze. La programmazione degli eventi di un anno intanto è completamente saltata e non si prevedono tempi rosei. Per questo l'associazione chiede una ripartenza certa, un sostegno e un confronto continuo. Loro sono pronti a mettere in campo progetti ben definiti. La protesta dei bauli in piazza è solo un esempio del loro grido di dolore. Aziende che hanno strumenti costosissimi, fermi da un anno, con conseguenze facilmente immaginabili. Abbiamo presentato alla Regione la nostra situazione di grave crisi avuta nello scorso anno e che altrettanto prevediamo sarà per quest'anno, con perdite fatturato che vanno dai 60 al 90%, perché le attività di spettacolo ancora non riescono a partire e non ripartiranno a pieno regime. Questa è la situazione vera che abbiamo prospettato alla Regione per noi, per le nostre famiglie, per le nostre aziende e per i nostri lavoratori. Tutti i nostri tecnici chiaramente hanno bisogno di occupazione, quindi probabilmente molti di loro li perderemo perché cercheranno altre occupazioni. Quindi questa è la situazione vera. Serve un confronto continuo con le istituzioni, con la Regione nel caso dell'incontro di oggi, per cercare di attuare e mettere in campo delle misure a sostegno e di programmazione futura. Quello che abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere è delle ripartenze certe, quindi evitare che si torni a delle chiusure, perché la programmazione è fondamentale per le nostre attività, e un piano di sviluppo regionale. Con un confronto abbiamo chiesto con il nostro settore, tutte le parti del nostro settore, per programmare una ripartenza del nostro settore. Si può fare, le risorse crediamo che ci possono essere e siamo in grado anche di proporre progetti specifici ad hoc. Ci vuole la volontà istituzionale di darci una mano.